L'ultima volta che Ghani ha visto suo figlio, Durid, è stato nove anni fa, era il 17 luglio del 2014 e l'ISIS, senza sparare un colpo, si era appena presa Mosul. Quella sera improvvisamente tutti i nostri vicini hanno detto che bisognava andare via subito. Scappammo così, senza prendere nulla. Mio figlio, Durid, non c'era, ma ero convinta che ci saremmo ritrovati, una volta fuori da Mosul. Invece non l'ho più rivisto e in questi nove anni nessuno ha mai più saputo dirmi niente di lui. Una parola a volte può cambiare una vita e in Iraq spesso quella parola è mafkud, disperso, scomparso. Vuol dire che non sei ufficialmente morto ma solo che di te non si sa più nulla e di mafkud in Iraq ce ne sono centinaia di migliaia. Impossibile dire esattamente quanti, la guerra con l'Iran prima, la feroce dittatura di Saddam poi, lo sterminio dei curdi, le violenze settarie e infine l'ISIS. Si stima che i dispersi possano essere fino ad un milione. So che Durid è morto, quando una madre perde un figlio perde tutto. Perdi le parole, perdi la serenità, perdi la tua stessa vita. Lui è il mio pensiero fisso. Chirman Gisiani è un attivista per i diritti umani, consulente del Ministero della Giustizia. Spiega che solo per il genocidio della minoranza yazidi compiuto dall'ISIS ci sono circa 6.000 persone scomparse. Ma sono i dati ufficiali perché in moltissimi casi non sono state presentate le denunce e i casi reali sono molti di più. Dal 2019 un team di esperti sotto la supervisione delle Nazioni Unite sta cercando e scavando le fosse comuni nel nord dell'Iraq. che finora ne sono state individuate 72, ma per trovarle tutte serviranno ancora molti anni. Penso a Durid giorno e notte, penso a cosa possa essergli successo, a dove potrebbe essere il suo corpo e prego Dio di darmi almeno una tomba su cui piangere mio figlio.